95 milioni di euro investiti che toccheranno 148 comuni di tutta la Puglia. Questo vuol dire un enorme investimento che riguarderà la possibilità di collegare le imprese, le pubbliche amministrazioni, gli ospedali, le scuole, tutte con una banda ultralarga in collegamento col mondo. Questa attività è importantissima, oggi bisogna scegliere adottando nuovi modelli di consumo e nuovi modelli di produzione, nuovi modelli di vendita. La banda ultralarga è un'autostrada, solo che è un'autostrada senza confini, è un'autostrada che raggiunge tutto il mondo. E questa autostrada noi mettiamo a disposizione delle imprese che sono in Puglia e di quelle che vogliono venire ad investire, perché sappiamo che attraverso questi strumenti tecnologici così avanzati forniamo un contenitore. La sfida va alle imprese, perché si riempiano di contenuti i contenitori, la sfida va alle pubbliche amministrazioni, perché migliorino i loro processi, le loro attività, perché siano più vicini ai cittadini e alle imprese. E in fondo va a collegare le famiglie, perché un milione e duecento famiglie saranno collegate con la banda ultralarga. Un milione e duecento persone che hanno la possibilità di lavorare meglio per il futuro, ma anche di trovare nuova occupazione. Solo con la realizzazione della banda ci sono mille e ottocento chilometri di rete e cinquecento persone nuove occupate. Questo vuol dire che sino al 2016 la banda larga potrà essere ultimata. E banda ultralarga significa ancora di più. Significa che si potrà dare prospettiva di lavoro nell'ambito civile, nell'ambito sociale, nell'ambito dei servizi, nell'ambito amministrativi, a tante nuove professionalità che diversamente sarebbero costrette ad uscire dal nostro territorio. Ecco, è una bella sfida davvero, una sfida rivoluzionaria. Credo che tutti quanti abbiamo la possibilità di crescere in questo modo attraverso la Puglia.